E' stata una bellissima avventura perché devo ringraziare in primis il sindaco del magistrato di Napoli perché è stato colui che mi ha messo in contatto con il sindaco Nardella e con l'assessore della cultura Tommaso Sacchi che ringrazio per quello che hanno fatto. Yuru Wang è contentissimo, non potrà essere presente alla cerimonia di inaugurazione per ovvie ragioni di pandemia anche in Cina, però mi ha mandato un bellissimo messaggio che spero di poter pubblicare. Che proietteremo durante la presentazione dell'anteprima stampa. Esattamente, sicuramente poi lui si ripropone di poter venire in Italia al più presto per poter essere presente e potersi ringraziare ufficialmente coloro che hanno avuto fiducia in me ma soprattutto in lui come artista per poter portare nella culla del rinascimento in uno dei posti più belli d'Italia la sua esposizione. Desidero ringraziare in primis l'assessore Tommaso Sacchi con cui ho collaborato in maniera splendida e che abbiamo sempre avuto una comunione di idee il sindaco Dario Nardella che ha sopportato e ci ha creduto ha creduto nell'esposizione fin dal principio e il sindaco di Napoli De Magistri senza il cui fondamentale aiuto questa esposizione probabilmente non avrebbe potuto essere. Dario Nardella che ha sopportato e ci ha sopportato